Ci troviamo alla storica sagra di San Gaetano e quest'anno il gruppo Ponti si racconta è pronto ad accompagnarvi in una visita in notturna e gratuita all'antico maniero scaligero di Ponti sul Mincio. Tutte le sere alle ore 21.15 ci sarà una visita libera al castello mentre alle ore 22 ci sarà la visita guidata vera e propria quindi vi aspettiamo numerosissimi al castello scaligero e alla sagra di San Gaetano a Ponti sul Mincio. Quest'anno siamo veramente contenti perché la corsa podistica che di solito facciamo la domenica mattina è andata veramente alla grande perché ci sono state 1220 persone che sono venute a correre in questo nostro bellissimo paese ed è stata veramente una grande soddisfazione. Il Gagliardetto del Comune di Ponti